Buonasera, c'è pubblico attento, subito il silenzio è calato in sala. Grazie per essere tornati qui, ho venuto qui per la prima volta. La stagione si è aperta con una bohème importante per festeggiare i 120 anni di questo titolo così legato al Teatro Regio. C'è l'opportunità, se non l'avete vista, se la volete rivedere o se volete mostrarla a qualcuno, di vedere l'opera in integrale che è stata ripresa e registrata. È disponibile su The Opera Platform, questo sito web che da un paio d'anni, frutto di un progetto europeo di cui il Teatro Regio è l'unico partner italiano, da un paio d'anni, dicevo, offre in sostanza un cartellone operistico di ambito europeo con le più importanti produzioni messe a disposizione da una quindicina di teatri. E peraltro è anche l'opportunità di sentire in viva voce interviste ai protagonisti, ai direttori e a altre persone del teatro. Passata l'inaugurazione abbiamo un altro titolo che starebbe benissimo all'inizio di una stagione, perché una grande opera come il Sansone e d'Adila di Camille Saint-Saën è una di quelle opere di vaste proporzioni che si attaglierebbe a un'opera di apertura. Tanto più in questa produzione, che è frutto di una collaborazione stabilita qualche anno fa dal sovrintendente Verniano con uno dei più grandi teatri al mondo, sicuramente il nuovissimo centro di produzione artistico che è l'NCPA di Pechino, il National Center for the Performing Arts di Pechino, che è stato costruito qualche anno fa, un edificio bellissimo che ha la forma di un uovo, insomma, una meraviglia della tecnologia e fanno delle produzioni veramente grandiose da non perdere. Abbiamo la fortuna, grazie a questa collaborazione, di poter vedere lo spettacolo qui al Teatro Regio. E' il ritorno di Ugo De Ana, che firma regia Scene e Costumi, il ritorno dopo Lusighevitz, la vedove allegra di qualche anno fa, ma soprattutto del suo Don Carlo, che nel XIII ha segnato i 40 anni del Nuovo Regio. Quindi è un regista anche lui, come sapete benissimo, tra i maggiori a livello internazionale e quindi altro elemento che rende tanto più interessante. I protagonisti, i due interpreti dei personaggi del titolo sono Daniele Barcellona e Gregori Cunde. Anche qui non serve aggiungere altro. Per tutto questo piatto così ricco non potevamo esimerci dall'avere qui una persona così competente e appassionata di questo repertorio come Susanna Franchi, che ha abbandonato i microfoni di Radio 3, uscita dalle colonne della Repubblica, senza abbattere le colonne, come farà Sansone alla fine della nostra opera. e per cui le cedo la parola così non ne rubo altro tempo. Di Susanna e di altri appuntamenti vi dirò alla fine, ma intanto Sansone e Dalila di Susanna Franchi. Grazie. Buonasera. Sansone, il personaggio biblico è diventato nel corso dei secoli, nel corso degli anni, lo stereotipo dell'uomo forzuto, sconfitto da una donna. Pensate a quanti quadri rappresentano Sansone sulle ginocchia di Dalila, mentre lei gli sta tagliando i capelli. Pensate a quanti film del periodo degli anni 50, quanti colossal sono stati girati con Sansone come protagonista. Alla fine, se c'è tempo, vi farò vedere un pezzettino da quello più famoso, quello con Victor Mechure e Di Lamar. Ma Sansone è diventato un mite, uno stereotipo, tanto che in quegli anni giravano dei film che si intitolavano Sansone contro i pirati o Sansone il tesoro degli Incas. Che cosa abbia a che fare il Sansone biblico con gli Incas? Non l'ho scoperto. Nella letteratura, nel teatro e nella musica, Sansone diventa ben presto un protagonista, dall'opera di Milton alla tragedia di Voltaire, che viene musicata da Rameau e che diventa una base anche per il lavoro di Saint-Saëns e il suo librettista, all'oratorio di Handel. Ha proprio un testo contemporaneo all'opera Sansone e Dalila, che è La colère de Sanson di Alfred De Vigny. Sansone è il protagonista del Libro dei Giudici, della Bibbia, i capitoli dal tredicesimo al sedicesimo. Il Libro dei Giudici racconta un periodo che va dal 1150 al 1025 a.C. E Sansone è un predestinato. Racconta la Bibbia che siccome i figli di Israele si erano comportati male, il Signore li aveva abbandonati in mano ai filistei. E c'era un uomo della città di Zorea, della tribù di Dan, che si chiamava Manoac. Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. Ma un messaggero del Signore apparve a questa donna e le disse Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli. Eppure resterai incinta e partorirai un figlio. Ma ora devi astenerti dal bere vino e dal mangiare cibi impuri, perché il figlio che tu darai alla luce sarà Nazireo, un consacrato. Sui suoi capelli non passerà mai il rasoio e lui comincerà a salvare Israele dalle mani dei filistei. Questo Nazireo, cioè questo consacrato a Dio, è Sansone. Non deve bere vino, non deve toccare i morti, non deve mangiare cibi impuri e non deve farsi tagliare i capelli. Sansone vuol dire figlio del sole. Shim Son, figlio del sole. Nella storia della Bibbia, prima di arrivare alla vicenda che ci racconta Sansone e Dalila, Sansone compie diversi, è protagonista di diversi episodi. Innanzitutto lui si innamora di una donna filistea e i suoi genitori un po' si arrabbiano perché gli dicono con tutte le ragazze ebree che ci sono proprio di una filistea, ti dovevi innamorare. Lui dice non c'è niente da fare, io amo questa donna e andando a trovarla nel villaggio dove questa donna viveva gli va incontro un leone e lui lo squarta e lascia la carcassa di questo leone per la strada. Allora il padre di Sansone decide di organizzare un banchetto per il fidanzamento con questa donna e Sansone ripercorrendo la stessa strada vede che delle api hanno fatto un favo nella carcassa del leone morto che lui aveva lasciato precedentemente. Allora gli viene in mente un'idea mentre a questo banchetto insieme ai filistei dice io vi faccio un indovinello se voi rispondete esattamente a questo indovinello io vi regalerò 30 tuniche e 30 vestiti nuovi e l'indovinello è da chi divorò uscì cibo dal forte uscì una cosa dolce e la risposta appunto è il leone perché lui aveva trovato nella carcassa di questo leone del miele. Che cosa succede? Succede che la moglie di Sansone viene costantemente richiesta dai filistei dici tu la soluzione di questo indovinello perché noi non vogliamo perdere con Sansone questo ci fa riflettere perché avrà a che fare anche poi con Dalila. E la moglie continua a disturbare Sansone dicendogli non mi ami se tu mi amassi veramente non avresti questo segreto non terresti questo segreto quindi dimmi la verità. E allora Sansone cede le dice la verità le dice che la risposta è il leone ovviamente la moglie lo va a dire ai filistei i filistei rispondono a Sansone e quindi Sansone è costretto a pagare questo debito e che cosa fa? Uccide 30 persone per prendere le vesti e darle ai filistei e queste sono delle tante avventure e dei contrasti tra Sansone e i filistei poi c'è anche l'episodio del grano Sansone lega dei fasci infuocati alle code delle volpi e le lancia nel campo di grano e il campo di grano ovviamente prende fuoco quindi tutto questo per raccontarvi quanto i filistei patissero quello che Sansone faceva. A un certo punto è andato male questo matrimonio Sansone si innamorò di una donna della valle di Sorek, Dalila allora i capi dei filistei andarono da lei e le dissero seducilo per sapere il segreto della sua grande forza e in che modo riusciremo a legarlo e a ridurlo all'impotenza ognuno di noi ti darà mille e cento cicli d'argento questa è la Bibbia Dalila tra le tante traduzioni che si possono fare del suo nome vuol dire riccio londeggiante tentatrice capace di indebolire ma anche notte quindi abbiamo detto Sansone è sole e Dalila invece significa notte e l'opera di Sansang è un'opera che ha molte ambientazioni notturme cosa fa Dalila? nella Bibbia spinta dai soldi continua a chiedere a Sansone qual è il segreto della sua forza e per tre volte Sansone le racconta delle bugie le dice la prima volta che se viene legato con delle corde di nervo fresco non riesce più a liberarsi Dalila lo lega lui si libera lo stesso se viene legato con delle funi nuove non riuscirà a liberarsi Dalila lo fa e lui si libera se gli vengono fatte i capelli sette trecce e queste sette trecce vengono legate a un battente di una porta lui non riuscirà a liberarsi e invece lo fa lo stesso e quindi la vicenda è un po' come l'Oing mai devi domandarmi cioè c'è questa donna che vuol sempre sapere qualche cosa e lui che mantiene questo segreto finché nella Bibbia c'è una frase molto spiritosa che viene tradotta o arrivò a non poterne più oppure annoiato a morte Sansone cede e le dice guarda il mio potere nei miei capelli non sono mai stato toccato dal rasoio e quindi svelato questa cosa Dalila lo lascia addormentare chiama un uomo per tagliargli i capelli e quindi Sansone viene arrestato dai filistei accecato e legato alla macina e sempre la Bibbia ci racconta il finale cioè quello del crollo del tempio di Dagon c'erano 3000 persone che assistevano ai giochi di Sansone nel senso che Sansone veniva preso in giro i capelli erano ricresciuti loro pensavano che le forze non gli fossero ritornate lo prendevano in giro lo usavano diciamo come se fosse un buffone e allora Sansone invocò il signore signore ricordati di me rendimi ancora una volta la mia forza una volta sola perché in una sola volta io posso avvendicarmi dei filistei per i miei due occhi trovate a tentoni le due colonne centrali che reggevano il palazzo Sansone le afferrò una con il braccio destro e l'altra con il braccio sinistro e esclamò che io muoia insieme ai filistei spinse con tutta la sua forza e il palazzo crollò sui capi dei filistei e su tutto il popolo che si trovava lì furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti ne aveva uccisi in vita e qui si conclude la storia che la Bibbia ci racconta e la trama dell'opera che voi vedrete dalla prossima settimana in poi è abbastanza fedele a tutto questo salvo che nell'opera noi vediamo che Dalila partecipa ancora agli sfottò a Sansone accanto alla macina partecipa ancora alla scena del tempio e muore nel crollo del tempio mentre invece nella Bibbia Dalila sparisce dopo aver venduto Sansone ai filistei Ceronetti che è un abile conoscitore studioso della Bibbia proprio nel mese di agosto ha pubblicato un bellissimo articolo su Repubblica sul personaggio di Dalila e Ceronetti ci racconta che nei manoscritti della grotta di Qumram che sono quelli che noi chiamiamo i manoscritti del mar morto sono quei ritrovamenti che sono stati fatti negli anni 50 tra il 47 e il 59 hanno ritrovato in queste grotte alcuni manoscritti della Bibbia la Bibbia ebraica che non facevano parte della Bibbia che noi normalmente conosciamo in questi manoscritti ci viene raccontato che cosa succede ad Dalila è un po' come Giuda diciamo così Giuda tradisce e prende dei soldi Dalila tradisce e prende dei soldi secondo questi manoscritti Dalila pentita dopo il crollo del Tempio di Dagone dopo la morte di Sansone restituisce i soldi ai filistei ed esce nuda dalla porta sud di Gaza e si fa divorare dalle bestie del deserto del Negev insomma per noi romantici è una storia molto più bella questa rispetto all'immaginarla morta insieme nel Tempio allora cominciamo ad ascoltare un po' di musica e ascoltiamo l'ingresso di Sansone l'opera comincia non vi riracconterò la trama perché è la stessa di quella della Bibbia siamo nella piazza di Gaza dove gli ebrei sono sottomessi ai filistei e con un grandissimo colpo di teatro Sansone ci fa ascoltare il lamento degli ebrei il coro ancora a separio chiuso noi ascoltiamo questo coro dietro le quinte che si lamenta perché si sente abbandonato da Dio e si sente ed è in schiavitù ed è un po' il colpo tipo l'inizio del Mosè di Rossini il Mosè che comincia con le tenebre che è una delle sette piaghe di Egitto e i grandi riferimenti musicali che si fanno soprattutto per questa pagina iniziale sono Bach e Ender che erano due compositori che Sansang amava molto dopo questo coro di disperazione e di paura arriva Sansone Sansone invece è l'uomo della speranza è l'uomo della forza che dice bisogna spezzare le catene non dovete dubitare il Signore ci ama ascoltiamo questo ingresso di Sansone è un allestimento anche questo firmato da Ugo De Ana nel 2002 al Teatro della Scala in realtà è al Teatro degli Arcimboldi dirige Gheribertini e Sansone e Placido Domingo sentite come è importante la presenza del coro soprattutto in questo primo atto lo racconteremo poi un po' più avanti l'origine di quest'opera che in origine doveva intitolarsi da lì là doveva essere appunto un oratorio quando noi pensiamo a Camille Saint-Saën pensiamo all'autore del Carnevale degli Animali alla morte del cigno alla Dance Macabre alla Sinfonia numero 3 quella con organo ma non pensiamo al fatto che lui sia stato una personalità un intellettuale e un compositore molto eclettico era nato nel 1835 a Parigi era stato un enfant prodigio aveva cominciato a studiare il pianoforte quando aveva 4 anni e già a 4 anni componeva piccoli brani musicali a 5 anni racconta che gli regalarono la partitura del Don Giovanni e per lui era il regalo più bello che avesse mai potuto ricevere a 5 anni era considerato un piccolo Mozart nel senso che a 10 anni teneva già i suoi primi concerti pubblici aveva studiato con Alevi e poi era diventato organista della chiesa della Madeleine a Parigi tra le centinaia di cose che ha fatto nella sua vita si occupava di botanica di astronomia viaggiava era uno scrittore ha scritto tantissimo sia ricordi di viaggio che saggi ha anche fondato la Société Nationale de Musique in Francia e aveva delle sue passioni musicali che erano quelle appunto per Rameau per esempio del quale aveva curato l'edizione critica Handel Mozart Bach Lulli e poi gli piacevano moltissimo Schumann Wagner e Liszt del quale amava molto i poemi sinfonici nel 1876 va a Bayreuth ad assistere alla prima esecuzione del Ring e rimane colpito dall'insieme di poesia musica e dramma di Wagner e scrive che l'addio di Votam era una pagina grande come fosse stata una pagina scritta da Eschilo quello che forse in Francia non gli veniva riconosciuto era diciamo una certa genialità compositiva cioè capivano e riconoscevano la sua abilità compositiva però era sempre considerato non come un grandissimo compositore tra i tanti suoi record c'è anche quello di aver scritto la prima colonna sonora in assoluto il film del 1908 l'assassino del duca di Giza era un film muto e lui fu il primo autore a scrivere la musica per questo film muto è morto poi ad Algeri nel 1921 i compositori che amavano Sensanz e che lo conoscevano scrivevano di lui cose meravigliose per esempio Gounod aveva scritto la maggior parte dei musicisti fa quello che può con le note Sensanz fa quello che vuole Berlioz diceva che era uno dei più grandi musicisti della sua epoca Wagner che era uno dei più grandi autori di musica francese e Liszt che tanto peso avrà poi per le rappresentazioni del Sansone e Dalila diceva Sensanz non può scrivere male Bizet e Masnell lo consideravano un maestro pensate che una volta che era andato a trovare Wagner sul pianoforte c'erano alcuni appunti del Sigfrido e lui davanti a Wagner e a Lissa ha suonato a prima vista così quelli che erano gli appunti sul Sigfrido stupendo i due compositori abbiamo visto l'ingresso di Sansone che vuole ridare speranza al popolo ebraico e invece chi viene diciamo così a prendere in giro il popolo ebraico e Abimelech che è il satrapo di Gaza che l'insulta e dice Dagon è il dio più grande che ci sia il vostro dio è sordo rimarrete per sempre nostri prigionieri e Sensanz regala a questo basso che interpreta il ruolo di Abimelech una bellissima aria psicologicamente anche molto ben strutturata e nei suoi ricordi Sensanz racconta che mentre stava componendo questo pezzo era in campagna ospite di amici e al mattino stava facendo colazione questi amici avevano anche dei bambini e il padrone di casa gli domanda ma ti vedo un po' turbato stamattina cosa c'è che non va e Sensanz rispose non sono ancora entrato nella pelle di Abimelech perché doveva scrivere questa quest'aria e i bambini erano rimasti molto colpiti e così racconta Sensanz tutte le mattine quando lui andava a fare colazione i bambini gli domandavano sei entrato nella pelle di Abimelech perché volevano sapere se finalmente questo pezzo era nato dopo questa quest'aria diciamo così di insulti e molto forte Sansone reagisce Abimelech tira fuori la spada e Sansone uccide Abimelech e da lì c'è la rivolta degli ebrei che si si risollevano e quindi vanno per per la città a ribellarsi il gran sacerdote di Dagon esce dal tempio e rimane turbato da questo assassino e vuole fermare Sansone ma dal tempio di Dagon escono anche delle bellissime fanciulle filistei e insieme con loro esce da lì là ed è la prima volta che noi la vediamo e da lì comincia l'opera di seduzione nei confronti di Sansone lei esce e dice parlo a colui che regna sul mio cuore e c'è tra di loro un bellissimo gioco di sguardi e inizia quello che è il conflitto più terribile per Sansone perché il conflitto è tra il suo Dio e l'amore che lui prova per Dalì là e chiede Sansone a Dio chiudimi gli occhi e chiudimi il cuore perché io non posso ascoltare questo che questa seduttrice mi sta dicendo e c'è il vecchio ebreo che è un po' la coscienza di Sansone che parla di Dalì là come se fosse il veleno di un serpente ascoltiamo la prima aria di Dalì là Prentanchico Mons dove parla di cuori innamorati e parla delle sue notti in pianto in attesa dell'uomo amato lo ascoltiamo dalla voce di Maria Callas che non ha mai cantato in teatro questo personaggio ma ha inciso tutte le arie di quest'opera è una registrazione del 1961 con l'orchestra della radiodiffusione francese diretta da Georges Prêtre che meraviglia sentite la sinuosità del canto di Dalì là c'è una cosa curiosa che Sansan sceglie per tutte le musiche che riguardano Dalì là e i filistei delle musiche orientaleggianti avrebbe potuto fare la stessa cosa anche per le musiche degli ebrei invece non lo fa cioè i filistei sono sempre accompagnati da sonorità e strumenti che ci raccontano l'Oriente l'idea veniva da lontano racconta Sansan a proposito della scrittura appunto di quest'opera aveva fatto delle riflessioni sul fatto che in Francia ormai non c'era più nessuno che componeva per i cori gli ultimi erano quelli che erano stati composti per la Dannazione de Faust e allora un vecchio amico racconta gli aveva parlato del Sansone di Voltaire quello che era stato musicato da Rameau e allora Sansan parla con un cugino con un ragazzo diciamo così che aveva sposato una sua cugina un giovane poeta che si chiamava Ferdinand Lemaire e al quale aveva già fatto scrivere alcuni testi per alcune sue canzoni e gli propone di scrivere i testi per un oratorio sul soggetto biblico appunto di Sansone e Lemaire invece gli rispose no facciamo un'opera non facciamo un oratorio e Sansan decide di scrivere un'opera e racconta lui stesso non so perché cominciai dal secondo atto e il primo titolo come vi dicevo doveva essere da lì là nel 1868 fa ascoltare il secondo atto che ha composto ad alcuni amici per suonandolo al pianoforte e dice il compositore non hanno capito niente perché a nessuno il secondo atto era piaciuto c'era anche Anton Rubinstein che si era dimostrato abbastanza perplesso nel 1874 Pauline Viardot alla quale la partitura è dedicata in un piccolo teatro di Bougival esegue con lo stesso Sansan al pianoforte il secondo atto nuovamente e fa una sorpresa al compositore nel senso che sia lei che gli altri interpreti avevano i costumi come se fosse una vera e propria rappresentazione e Sansan aveva esclamato che bello vedere finalmente quest'opera con i costumi ma eravamo appunto ripeto soltanto al secondo atto nel 1875 allo Châtelet di Parigi viene eseguito in forma di concerto il primo atto e il cronista anonimo della Chronique Musicale scrive una recensione famosa come quelle di Bohème che rimangono poi per sempre storiche ripeto del primo atto del Sansone d'Alila del quale avete ascoltato questa bellissima aria scrive mai assenza di melodie si è fatta sentire come in questo dramma e questa assenza totale di motivi si somma a una strumentazione che in nessun momento si eleva al di sopra dell'ordinario e il 1875 quindi sono passati sette anni da quando aveva cominciato a far ascoltare a qualcuno il secondo atto e Sansan incontra Liszt e gli vuole suonare qualche cosa al pianoforte perché vorrebbe finalmente che quest'opera andasse in scena e Liszt gli risponde non ho bisogno di ascoltare quello che tu hai composto porta a termine il tuo lavoro e io lo farò rappresentare e fu così che il 2 dicembre del 1877 a Weimar in tedesco sotto la direzione di Eduard Lassen il Sansone d'Alila va in scena per la prima volta con un grandissimo successo viene ripreso subito a Bruxelles ad Hamburgo e Hans von Bulow scrive che Sansone d'Alila è il dramma musicale più importante che abbia visto la luce in questi ultimi anni perché l'opera arriva in Francia devono passare 13 anni ovvero nel 1890 viene rappresentata a Rouen finalmente nel 1891 a Parigi al teatro Lyric dell'Eden e poi a Ginevra a Firenze ad Algeri però per un compositore francese dovete pensare la consacrazione è l'opera e Palais Garnier e finalmente 15 anni dopo arriva a Palais Garnier ovvero il 23 novembre del 1892 sotto la direzione di Eduard Colom e in 5 anni a Parigi ci sono 100 rappresentazioni del Sansone d'Alila Tamagno lo interpreta al Metropolitan a Torino la prima e nel 1897 sotto la direzione dei Toscanini nel 1907 Gustav Mahler che allora dirigeva la stazopera di Vienna mette quest'opera in cartellone adesso ascoltiamo l'inizio del secondo atto il primo atto si è concluso con quest'aria seduttiva di Dalila e con l'ammonimento del vecchio ebreo l'apertura del secondo atto è un'apertura notturna ed è l'apertura da cospirazione perché Dalila e il gran sacerdote di Dagon cospirano diciamo così contro Sansone vi faccio ascoltare questo brevissimo preludio del secondo atto perché Sansan racconta di essersi un po' ispirato a quello che era la tempesta nel secondo atto dell'Otello di Rossini quindi sentite già i bagnori della tempesta che esploderà poi nel finale del secondo atto ma soprattutto perché in questo preludio ci sono due motivi che combattono diciamo così l'uno contro l'altro sono lo spirito di Dio il Dio di Sansone e la voluta femminile si è discusso molto e a lungo sul fatto che nel Sansone e Dalila Sansan sia il primo compositore francese che adotti quelli che sono i leitmotiv wagneriani in realtà lo stesso Sansan spiega che sono diversi e diverso l'uso che fa Wagner dei leitmotiv da quello che fa lui detta brevemente Sansan scrive che molti dei leitmotiv o temi ricorrenti che utilizza Wagner servono anche a noi ascoltatori per capire quelli che sono i pensieri reconditi dei personaggi ad esempio di Tristano o di Isotta nel suo caso invece non c'è niente diciamo di recondito o di inconscio quando viene presentato un tema o un motivo ma è un modo di dare una sorta di unitarietà all'opera se voi sentite il motivo della seduzione di Dalila del primo atto lo risentite nel secondo o sentite il motivo diciamo di Dio del primo e poi lo risentite avete come dire dei punti di riferimento questo spiega Sansan per differenziare i suoi leitmotivi da quelli Wagneriani c'è da dire che in Francia molti lo accusarono di essere un Wagnerista e di essere un compositore troppo Wagneriano la frase più spiritosa è quella di un critico musicale che aveva scritto che Sansan era il solo musicista contemporaneo che ha avuto un insegnamento salutare dalle teorie wagneriane senza però lasciarsene trarre in inganno ascoltiamo allora l'inizio del secondo atto siamo davanti alla casa di Dalila e notte sentiamo i bagliori della tempesta ma soprattutto sentiamo che il dramma sta per diventare una tragedia ecco questo è invece il tema senti i bagliori della tempesta che sta per arrivare questo è sempre l'allestimento il direttore era Gheribertini era l'allestimento di Deanne del 2002 alla scala allora parliamo un po' di questa tentatrice di questa fan fatale che è Darila è una tentatrice e in più è una tentatrice che abita in un contesto esotico pensate a quanto fascino aveva appunto l'esotismo in quegli anni in Francia pensate alla Salambo di Flaubert che viveva in un boschetto di sicomori dove rosseggiavano i melograni e nelle dascalie di questo secondo atto la casa che avete appena intervisto di Darila vive tra piante asiatiche e liane lussurreggianti la tentatrice è Darila nella nave di D'Annunzio e Darila nelle tentazioni di Sant'Antonio di Flaubert e Darila persino in Venere in Pelliccia di Sacher Masoch il protagonista di Venere in Pelliccia il masochista la prima volta che si fa frustare è in una stanza dove guarda un quadro che rappresenta Sansone ai piedi di Dalila e scrive Sacher Masoch il protagonista riflette su questo dipinto e dice questo dipinto è un simbolo ed eterna parabola della passione della lussuria dell'amore dell'uomo per la donna ognuno di noi è in fin dei conti un Sansone e alla fine volente o nolente è tradito dalla donna che ama che indossi un mantello di lana o di zibellino e che cosa spinge Dalila a fare quello che fa nei confronti di Sansone Paul Ducat che aveva assistito alla prima a Pallegarnier dell'opera di Sansan mette i puntini sulle i e dice che cosa c'entra il patriottismo con questa novella giuditta il testo del libro dei giudici è molto più semplice e perciò stesso più significativo Dalila tradisce Sansone per femminile perversità niente di più da qui questo antico racconto trae tutta la sua originalità e anche tutta la sua filosofia facendo di Dalila una sorta di profetessa cingendola il capo di un'aureola di patriottismo la si rende forse più simpatica ma sicuramente si sfigura il personaggio non è più Dalila quanto meno la Dalila della Bibbia uno dei personaggi meglio definiti come diceva Amio che abbia prodotto la poesia di ogni tempo nel libro dei giudici come vi ho letto prima in realtà sembra più che altro che Dalila tradisca per soldi nel senso che viene pagata dai filistei per scoprire il segreto di Sansone nell'opera invece appunto secondo Ducat è un po' trasformata in una sorta di giuditta patriottica nel senso che il gran sacerdote di Dagon che le chiede di scoprire il segreto di Sansone lo fa perché vuole appunto fermare quello che Sansone sta facendo contro i filistei in realtà sembra più che altro che dal libretto che Dalila si muova o cerchi di vendicarsi diciamo così più che altro per una sorta di frustrazione femminile nel adesso ascolteremo quello che è il duetto della congiura cioè quello nel quale il gran sacerdote e Dalila decidono di vendicarsi e di tradire Sansone Dalila più volte dice di essere stata ingannata da Sansone tre volte è il riferimento alle tre volte nelle quali gli aveva chiesto le spiegazioni della sua forza ed era stata ingannata e soprattutto forse quello che ci appare più frustrante per lei è che Dalila racconta più volte lui è stato tra le mie braccia e poi invece è stato richiamato dalla battaglia quindi diciamo una sorta di orgoglio femminile frustrato di avere l'amato tra le proprie braccia invece poi di vederlo andare via perché deve andare a combattere per il suo dio e quindi sono questi i motivi che spingono questa Dalila così vendicativa nell'opera noi adesso ascoltiamo il finale di questo duetto chiamiamolo così della congiurna nel senso che dopo questo preludio notturno arriva il gran sacerdote Dagon che chiede a Dalila insomma di arrivare alla fine e di scoprire qual è il segreto di Samson e c'è questo clima di congiura che nell'opera è un po' tipo il duetto di Marina Rangoni nel Boris che è di questi anni un po' il duetto tra Ortrud e Terramund nell'Oengrin e c'è questo clima soprattutto di scoprire questo desiderio di scoprire qual è il suo segreto e Dalila ripete più volte in questo duetto non mi importa dell'oro non mi importa dei soldi io so di sicuro che lui non potrà resistere alle mie lacrime ascoltiamo proprio solo il finale c'è questo momento molto bello nei quali Dalila e il Sansone dicono uniamo scusate Dalila e il gran sacerdote di Dagon dicono uniamoci tutti e due contro Sansone a morte il capo degli ebrei ed è un pianissimo molto drammatico perché ha un effetto teatrale molto forte sono Olga Borodin e Jean-Philippe Lafon due cattivi proprio che congiurano e adesso arriviamo a quella che è l'area più celebre l'area della seduzione Moncors au Varatavois dopo questo duetto arriva Sansone che appunto è dibattuto da questa storia d'amore con una donna nemica e Dalila fa di tutto ovviamente per sedurlo e farlo cedere è un'area molto particolare nel senso che è un'area che canta il mezzo soprano ma come ben sapete si inserisce poi nel finale anche il tenore che recita la partitura deve cantare piano il si bemolle acuto che conclude il je t'aime c'è un'orchestra lussureggiante ci sono i temi orientaleggianti che vi dicevo prima ci sono l'arpa i pizzicati degli archi che un po' ci ricordano lo stesso clima del terzo atto dell'Aida e i francesi che amavano moltissimo quest'area e che avevano una sorta di rivalità con il nostro bel canto italiano scrivevano il bel canto italiano non ha mai prodotto una frase così bella così perfetta come quella appunto di Moncors ma c'è un omaggio letterario che è stato fatto a questa pagina ed è un brano del dottor Faustus di Thomas Mann un romanzo che ha la musica come protagonista e a un certo punto il protagonista Adrian è a casa di amici e domanda al padrone di casa per caso non avrebbe nella sua collezione l'aria di Dalila in Rebemolle Maggiore dal Sansone di Sensan la domanda era rivolta a Bullinger il padrone di casa il quale fu molto soddisfatto di poter esclamare io io dovrei non avere quell'aria caro mio che cosa pensa di me eccola qui e non per caso io lo posso assicurare e estrae il disco per inserirlo in un vecchio grammofono e Adrian racconta benissimo mi viene in mente perché Kretsmacher il mio maestro deve sapere un organista appassionato di fughe aveva veramente un debole per questo pezzo era anche capace di riderne ma questo non significa nulla contro la sua ammirazione rivolta al carattere esemplare di questa musica silenzio l'ago attaccò Bullinger vi girò sopra il pesante coperchio e dall'imbuto proroppe un superbo mezzo soprano che non badava molto alla buona pronuncia si capì il mon coeur sovratavoie e poi qualche altra parola ancora ma il canto accompagnato purtroppo da un'orchestra frignante era stupendo per calore tenerezza per timbro felice al pari della melodia che nelle due uguali strofe si dispiega in tutta la sua bellezza soltanto verso la metà e la conchiude in modo affascinante specialmente la seconda volta quando il violino in piena sonorità trascina con sé la doviziosa linea della melodia e ripete la figura finale come un'eco tenera e malinconica tutti rimasero commossi una delle signore si asciugò un occhio col fazzolettino ricamato dal taschino insensatamente bello esclamò Bullinger servendosi di una frase fatta da parecchio tempo in uso fra gli esteti la quale mitigava con la sprezza del conoscitore l'entusiastico giudizio sulla bellezza questo è il tributo di Thomas Mann a quest'aria che noi adesso ascoltiamo l'aria che quando venne eseguito per la prima volta all'opera a Pallegarnier venne immediatamente bissata lo ascoltiamo è una registrazione dal vivo al Covent Garden nel 1981 Shirley Verrett e John Vickers e anche un omaggio a Shirley Verrett una grande cantante della quale proprio due giorni fa si sono ricordati sei anni dalla sua scomparsa il cuore della vicenda del Sansone e ovviamente il taglio dei capelli e con un grande colpo teatrale Saint-Saëns non ce lo fa vedere anzi è una scena brevissima e molto particolare la chiusura di questo secondo atto dopo questa meravigliosa seduzione Sansone non può più resistere però in realtà cerca di resistere quindi è dibattuto lascia la casa di Dalila cercando di resistere c'è la tempesta in corso non riesce a resistere rientra nella casa di Dalila noi non assistiamo a nulla non vediamo nulla non si parla mai dei capelli non si parla mai del suo segreto non si parla mai del taglio c'è un due minuti di pagina soltanto strumentale nella quale normalmente negli allestimenti noi vediamo i filistei che circondano la casa e l'unica frase che noi sentiamo meglio la sola parola che sentiamo è traison ovvero tradimento detto da Sansone che viene circondato legato e portato via il terzo atto comincia con il Sansone con i capelli tagliati perché è stato tradito e quindi il suo segreto è stato svelato e accecato legato a una macina costretto con la sua forza residua che gli sta tornando a girare appunto questa macina per Paul Ducat la scena della macina è una delle pagine più commoventi che siano mai state scritte se voi pensate io adesso vi ho fatto ascoltare la prima romanza di Dalila ne canta anche un'altra bellissima il secondo atto è questa in realtà non ci sono dei veri e propri pezzi chiusi insomma delle romanze come le chiamiamo tradizionalmente soprattutto il protagonista ha l'aria di ingresso e poi ha questa lunga scena della macina è una scena di dolore nel senso che Sansone chiede pietà a Dio per la sua debolezza e dietro le quinte il coro degli ebrei gli rinfaccia e gli domanda che cosa hai fatto ai tuoi fratelli per colpa tua noi siamo nuovamente prigionieri e la domanda che noi ascoltatori ci facciamo è se questo coro sia vero o se sia in realtà la coscienza di Sansone che gli fa queste domande che gli domanda appunto perché si è comportato in questo modo e questo è il punto proprio più basso diciamo così della parabola discendente di Sansone ascoltiamo questo inizio un brevissimo preludio inizio del terzo atto nel quale c'è una microscopica citazione della passione secondo Giovanni di Bach e poi l'aria della macina Placido Domingo Gheribertini avete sentito il coro gli dice per una femmina ci hai venduto e questo è il rimorso della coscienza di Sansone ci sono delle pagine del Sansone che sono soltanto strumentali diciamo così o dei balletti che sono perfettamente integrati nella vicenda c'è il piccolo balletto del coro delle donne filistee che escono al tempio di Dagon nel primo atto e soprattutto c'è il baccanale nel terzo atto una pagina che ha anche una sua vita diciamo così in sede concertistica qualche volta capita di ascoltarlo in forma di concerto e una delle pagine più famose di quest'opera nel quale il tema iniziale del lobo e racconta senza anghi era stato raccontato dal generale Youssouf che era un avventuriero francese un eroe della guerra di Crimea che quando era ad Algeria aveva cantato questo motivetto orientale è un brano perfettamente integrato perché appunto dopo questa scena della macina vogliono mostrare Sansone sconfitto a tutti i filistei e soprattutto vogliono che lui renda omaggio a Dagon quindi viene portato davanti al tempio di Dagon dove viene sbeffeggiato e dove Dalila anche finge un po' di avere pietà ma in realtà lo prende in giro e gli dice che ormai la sua vendetta è compiuta e quindi c'è questo baccanale dei filistei ne ascoltiamo lo ascoltiamo soltanto in versione orchestrale è un'esecuzione molto bella dei Berliner Philharmoniker diretti da Gustavo Dudamel e il ritmo sfrenato e il baccanale che c'è prima della catastrofe ascoltiamone un brano solo il tema riprende avete visto flauti arpe obo e tutto quello castagnette le nacchere tutto quello che ci può definire un oriente il finale dell'opera dopo questo baccanale quello che vi ho letto prima cioè quello fedelissimo della Bibbia Sansone va tra le due colonne e fa crollare il tempio vi ho raccontato del successo che il Sansone ebbe subito a Weimar e poi dopo l'esecuzione parigine però nel corso degli anni ci sono stati grandi estimatori e grandi detrattori tra i detrattori di quest'opera c'era Stravinsky che nelle sue celebri conversazioni con Robert Kraft aveva definito questa musica paccottaglia musicale le discussioni poi sono sempre se questa sia un'opera o se sia un oratorio avete visto e non c'è dubbio alcuno che sia un'opera e poi le discussioni sul fatto di quanto Saint-Saën si sia ispirato ad altri compositori e la parola fine sulle accuse diciamo così all'eclettismo di Saint-Saën l'ha scritta Paul Ducat che ha scritto una lunghissima recensione della quale vi ho già citato un brano prima dopo la prima a Parigi dove dice Saint-Saën è tanto betoveniano berlioziano o endelliano quanto è wagneriano e insieme l'uno e l'altro segna studiato questi maestri e se li possiede meglio degli altri nella loro frequentazione ha saputo mantenere le distanze e salvaguardare la propria personalità adesso per concludere ci divertiamo un attimo e vediamo il crollo delle colonne non all'opera ma nel film e quello che vi citavo del 1949 il film della Paramount di Cécile B. DeMille che venne anche accusato di blasfemia che vinse l'Oscar per le scene e i costumi di Hans Dreyer e vedrete se non l'avete mai visto il crollo di Dagon che assomiglia un po' al Moloch quello che c'è al museo del cinema quello di Cabiria un po' gli assomiglia è bellissimo cioè per il 1949 non c'erano effetti speciali ma questi erano gli effetti e qui c'è un'altra versione diciamo un'altra invenzione cioè Edi Lamar nei panni di Dalila vuole molire insieme a lui lui vorrebbe che lei si allontanasse dal tempio per non farla morire invece lei si nasconde e muore anche lei vediamo quindi questo finale vi cito ancora solo una cosa c'è una delle battute più divertenti di Gruccio Marx su questo film era stato invitato dalla Paramount a vedere l'anteprima di questo film e alla fine lui racconta nella sua autobiografia i dirigenti della Paramount gli chiedero cosa ne pensava e lui disse ma mi sono un po' distratto non è un film che mi è piaciuto tanto perché è il primo film della storia del cinema nel quale il seno del protagonista maschile è più grande del seno della protagonista femminile vediamo Victor Mature e Edi Lamar crollo del tempio finale brava Susanna Franchi Susanna Franchi non delude grazie 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 ebbene San Sole e da lì là manca al Teatro Regio da praticamente vent'anni era l'ottobre del 1997 e Luca Ronconi aveva realizzato un bellissimo allestimento per l'inaugurazione della stagione del 97-98 e dico questo non solo per ricordare che l'opera manca da due decadi ma perché proprio domani ci sarà l'occasione per partecipare a un pomeriggio in omaggio in ricordo di Luca Ronconi un pomeriggio che è stato diciamo organizzato dal Teatro Stabile di Torino e cui il Teatro Regio partecipa con il contributo di Susanna Franchi per ricordare l'uomo ma anche tutti gli spettacoli di prosa ed opera che Luca Ronconi ha realizzato per Torino per cui domani al Teatro Gobetti alle tre e mezza c'è questa lunga carrellata di ricordi da parte di attori e di persone che hanno collaborato con lui Susanna Franchi che qualche anno fa ha curato proprio la parte dedicata alle regie liriche di Luca Ronconi su un bellissimo volume pubblicato da Le Mandi domani interverrà anche in questo pomeriggio dalle tre e mezza alle sei al Teatro Gobetti i nostri incontri con l'opera invece avranno una tappa molto interessante il prossimo 30 novembre perché dopo questo grande opera passiamo ad altro genere al musical con uno forse il più bel musical mai scritto di Leonardo Bernstein che è West Side Story e sarà un grande intenditore appassionato come il nostro direttore artistico Gaston Fournier-Fasio a tenere la conferenza e per intanto ci godiamo senza da martedì prossimo vi ringrazio ancora per l'attenzione grazie a Susanna Franchi buona sera buona sera